Unicron Zombie Apocalypse Unicron Zombie Apocalypse Io adesso faccio il letto mio E poi La faccio così alla cavola Come viene bene a me E poi ovviamente cerco di Di posizionare Di metterlo un po' come posso io Ok? A dopo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Si dà un po' che di la cavola Stavola mia onna Per la mare E dopo ci sarà Mi pare La promessa come sempre Su canale 5 Alla prossima Ok Perfetto Perfetto Allora Il letto è stato fatto E niente Non credo che ci sia Grante da Non credo che ci sia Grante da rifare Perché è tutto a posto Niente Aspetta un secondo Dunque Dunque Il letto è stato fatto E niente Adesso io vado a raccogliere La mia Braccetta E dopo E dopo se riesco Mi faccio Un altro video Ma non è detto Voglio provarci Ma non lo so Non sono sicura Però niente A dopo Faccio vedere Come ho fatto il letto Anzi Faccio vedere La rifinitura Del letto Aspettate un secondo Allora Questo è il mio letto Tutto bello fatto Tutto bello posto Sì Lo so Da questa parte Non è questo Bell'iente Aspettate Un bel letto Che l'ho fatto Un po' Da cavolo Però Almeno L'ho fatto L'ho sistemato bene Come meglio Potevo Vedete Allora Dunque Qua E' messo Un po' Così Però Pazienza Vedete Allora Qui non so Però questa piega Qua si forma In continuazione Beh E questo E il mio letto Ve l'ho fatto Ve lo faccio vedere Dall'alto Vedete Già Niente Dai A dopo Anzi A un altro video Bene Ciao ragazze Like Commento E se vi va Iscrivetevi Attivate la campanella Per non perdere I prossimi video O aggiornamento Ciao 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 Grazie a tutti.